Oltre 20 antiquari, un corollario di eventi tra concerti, liriche e mostra collaterale, presenze internazionali per un afflusso di pubblico di 6.500 visitatori. Si chiude così la 61esima edizione di Cortona Antiquaria, un viaggio ideale dalla Spagna al Cacoso che ha portato ad ammirare tesori di elevatissima fattura con importanti storie alle spalle. Mobilio, argenteria, tessuti, sculture, dipinti ed oggetti rari che hanno popolato per quasi tre settimane il centro convegni Sant'Agostino. Ottime anche le vendite, come da comune conferma, degli antiquari. Soddisfatto anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, una mostra che da sempre arricchisce l'estate cortonese mantenendo una qualità altissima e offrendo un'esperienza che rende Cortona leader nazionale nel mercato antiquario e del restauro. Le attività che abbiamo affiancato poi, come la mostra eredità macchiaiola assieme alle serate musicali, sono riuscite ad attirare migliaia di persone. È importante sottolineare che si sono raggiunti ottimi risultati, soprattutto dal punto di vista delle vendite degli oggetti, aggiunge Francesco Attesti, assessore alla cultura. Per il futuro, prosegue, sarà necessario trovare nuove modalità espositive, magari coinvolgendo anche istituzioni che operano nel campo del design. Il direttore artistico Furio Velona infine prospetta un futuro nuovamente erosio per il settore. Questa edizione ha registrato un ritorno di interesse verso l'antico in un momento di istabilità in cui si guarda al futuro ancorandosi al passato e alle sue bellezze che durano nel tempo.